E' stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci della BCC di Castiglione, Messerremondo e Pianella il bilancio di esercizio 2018. Si tratta del primo bilancio redatto con i nuovi principi contabili internazionali e approvato dopo l'adesione al gruppo bancario Icrea. Nel corso dell'Assemblea il Presidente Alfredo Savini e il Direttore Generale Simone Di Giampaolo hanno illustrato nel dettaglio il bilancio e spiegato gli effetti dei nuovi principi contabili, confermando la solidità e la crescita dell'Istituto di Credito. Il credito cooperativo, ha spiegato il Presidente Savini, sta vivendo un momento straordinario. Il 15 dicembre scorso abbiamo deliberato l'adesione al gruppo bancario Icrea, che all'inizio dell'anno si è costituito e il 5 marzo 2019 ha avuto l'autorizzazione definitiva da parte della BCE. Con la riforma continua Savini, le BCC virtuose diventeranno ancora più forti. L'indice di patrimonializzazione è considerato al 18%, superiore alla media del gruppo, con un patrimonio libero di ben 37 milioni di euro. Nel corso del 2018 la BCC è stata scelta come banca campione, solo 15 in tutta Italia, per l'ispezione della BCE. Anche in questo caso la verifica si è conclusa con esito pienamente positivo. Tutti questi risultati sono stati confermati e pubblicati da autorevoli testate economiche, quali Banca Finanza e Milano Finanza, per cui la BCC di Castiglione, oltre ad essere la prima in Abruzzo, è al 32esimo posto su 276 BCC italiane. Il bilancio approvato, spiega il direttore generale di Giampaolo, è stato redatto con i nuovi principi contabili internazionali entrati in vigore nel 2018. La nostra banca, continua il direttore, ha complessivamente crediti verso lo Stato per imposte anticipate a conti per 20 milioni di euro. Durante l'incontro, rimarcando i principi di mutualità e solidarietà della banca, è stato sottolineato come la BCC abbia continuato a svolgere a pieno le funzioni di banca del territorio, ancor più in un momento nel quale l'economia abruzzese ha perso il necessario supporto delle banche locali.